Le famiglie e le imprese fanno i conti con l'inflazione e il carovita e si ritrovano con meno liquidità disponibile e più debiti da pagare. I rincari dei prezzi hanno portato una rapida erosione dei conti correnti di circa 20 miliardi nel 2022, con gli italiani costritti a bruciare 41,5 miliardi di propri risparmi nel tentativo di conservare il tenore di vita degli anni precedenti. L'ammontare dei prestiti a fine 2022 si è attestato a 256 miliardi di euro, più l'1,5%, con una costante riduzione del potere di acquisto degli stipendi e degli incassi dei lavoratori autonomi, pari al 5-6% rispetto al 2021. Ma il dato più significativo è l'aumento del numero di debitori privati ed imprese nel 2022 che hanno problemi a pagare le rate, con aumento del 9% circa. L'avvocato Andrea Pace, nostro consulente per le trasmissioni di economia di Tele1, sostiene che per aiutare imprese e consumatori bisogna agire su più fronti. Da un lato è lo Stato che deve emanare una nuova moratoria per i mutui contratti dalle aziende e dalle famiglie della durata di almeno due anni, per consentire di pagare solo la quota interessi per 24 mesi e allungare così la scadenza finale del mutuo per lo stesso periodo. Dall'altro lato i debitori che non possono pagare si devono rivolgere ai propri consulenti o legali di fiducia per dialogare con le banche e trovare un accordo. Le banche infatti hanno un preciso dovere, spiega sempre l'avvocato Pace, regolamentato anche dalle circolari della Banca d'Italia, che prescrivono a tutti gli istituti di credito e finanziari di aiutare e assistere i propri clienti che abbiano difficoltà a pagare per trovare soluzioni di comune intesa. È chiaro che se il creditore non vuole sentire ragioni, imprenditori e consumatori in questo caso saranno assistiti dai legali che devono ricorrere alle decisioni dei giudici per superare le difficoltà. Vi ricordiamo che Tele One mette a disposizione dei telespettatori il suo esperto, l'avvocato Andrea Pace, per rispondere in diretta alle loro domande, il lunedì alle ore 15 nel corso della rubrica 16 live. È possibile per tutta la settimana a prenotarsi tramite WhatsApp al 393 3530409 o inviare una mail all'indirizzo economia-teleone.it.